Mi chiamo Azita Damandan e ho vinto il premio come miglior cortometraggio di fiction al primo festival del cinema delle donne di Teheran con Uomo, Donna, Bambino. In 15 anni di lavoro ho girato una decina di cortometraggi. Nel 1999 un mio lungometraggio è stato presentato al festival di Berlino, ma dopo di allora non ho più trovato un produttore. Infatti Uomo, Donna, Bambino è stato prodotto da me. ... non ho conosciuto anche se mi sono state mi sono andato sono andato mi sono andato mi sono andato mi sono andato si si tu si mi sono andato ma mi sono andato Sono nata ad Isfahan, ma vivo qui a Teheran da nove anni, perché avendo deciso di fare cinema, qui si sta meglio. E questo monumento è il simbolo di Teheran. Per il momento sto lavorando su due documentari prodotti da me e sulla sceneggiatura di un lungometraggio per il quale sto cercando un produttore. Pur avendo già vinto tre premi nazionali, ho ancora problemi a trovare una produzione. Per me è importante fare cinema, perché con ogni tipo di film che faccio posso esprimere il mio pensiero e questo è quello che mi interessa. La motivazione del premio non è stata data, so solo di aver vinto il festival come migliore regia di fiction. Il mio corto Uomo-Donna-Bambino parla di una famiglia di tre persone che vivono in una grande città dai ritmi sostenuti. Una caduta costringe l'uomo alla immobilità e quindi a ritrovare un momento di calma per pensare alla sua vita. Anche io, come la protagonista del mio corto, mi sento incompresa. Malgrado lo Stato iraniano abbia contribuito alla crescita della donna, ci sono ancora uomini, soprattutto nel mio ambito professionale, che non collaborano come dovrebbero con una donna. Comunque non tutti sono così. Io ho deciso di continuare il mio lavoro e perciò mi trasferisco con tutta la mia famiglia in Australia. Arrivederci. Bessere Bessere bella